Sarà vero? Sarà falso? La Space Family è in crisi Raga, ha tolto di nuovo il video fissato Ma cosa sta succedendo? Ma aspetta, ma dov'è Vale? E perché non fate più i video? Sì, perché... Ariane Makeup è stata insultata per il suo fisico Chissà che divertimento c'è a creare Dei profili falsi e a continuare a fare body shaming Ma ultimamente mi sento molto fragile E poco sicura di me stessa Sto ricevendo solo una delusione dopo l'altra Ciao scappati di casa Io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo appuntamento di TG Tube Il telegiornale più shock del web Dedicato al fantastico magico mondo di YouTube La Space Family è in crisi Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre Vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino Con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto Gossip, drama e il meglio e anche il peggio Di TG Tube Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram Dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok Dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi Nuovo TG Tube Nuove notizie super super shock Che vi devo raccontare Infatti a grandissima richiesta Torniamo a parlare di una delle famiglie Più amate di YouTube Italia Sto parlando della scoppiettante Space Family Di Sara, Vale e i loro due splendidi bimbi Questa famiglia spaziale ha conquistato Tutto il popolo del web Ma, ma, c'è un ma grande quanto una casa come sempre Perché in queste ultime settimane Si è ampiamente parlato Di una presunta crisi della Space Family Sono volate addirittura delle parole grossissime Rispetto a dei presunti litigi Presunte cose successe con la Space Family Ed io oggi sono qui per parlarvi di tutto e di più Anche perché il nostro racconto Parte proprio un mese fa Era, credo, il 26 Se maggio no Aprile Nel momento in cui Bise, assieme ai suoi amici È volato in Croazia Per il suo addio al celibato Perché, come vediamo da questa immagine L'hanno vestito da Gladiatore? Boh, non lo so Fatto sta che ha passato un weekend O comunque dei giorni in Croazia Con i suoi amici Per festeggiare appunto l'addio al celibato Quindi, l'ultimo viaggio Prima di sposarsi definitivamente Perché sì La Space Family convolerà a nozze Quando? Beh, esattamente il 7 luglio 2024 Alle 7 del mattino Mi pare che ci sarà questo matrimonio Boh Fatto sta che Molto curioso il fatto che anche io In quei giorni andrò a un matrimonio Della mia amica Gloria Che si sposa però il giorno prima Il 6 e poi il 7 invece facciamo un brunch Tutto molto, tutto molto bello Comunque vabbè Manifestate insieme a me perché ci sia il sole Non troppo caldo Ma quantomeno Una bella giornata Anche perché è luglio Matrimonio Già me sto a sentire male Comunque a parte questo che cosa succede Addio al celibato E dall'altra parte invece abbiamo Sara Che nel momento in cui Ibise si trova in Croazia Per l'addio al celibato Lei rimane da sola con i bambini a casa E voi non siete pronti Nelle sue stories Condivide delle parole che iniziano a preoccupare I fan di questa famiglia Ciao amici Sarò questi due giorni off per un po' Perché voglio godermi i bimbi a pieno E fino a qua voi direte Vabbè dove sta il problema Non c'è alcun tipo di problema Se non fosse che Sara ad un certo punto pubblica un video Adesso io non ricordo se non avesse l'anello Oppure ce lo avesse Non lo so Fatto sta che Ad alimentare i dubbi su questa presunta crisi della Space Family È una mossa social che viene fatta proprio da Sara Innanzitutto Andiamo a leggere i commenti di questo video che lei pubblica E dicono Raga ha tolto di nuovo il video fissato Ma cosa sta succedendo? Ma aspetta Ma dov'è Vale? E perché non fate più i video? Sì perché voi dovete sapere che Sara sostanzialmente Come già era successo in passato Decide di levare il video fissato in alto nel suo profilo Che riguardava la proposta di matrimonio fatta al Cairo in Egitto Detto questo Che cosa succede però? Allo stesso modo Passano le settimane E nulla Non vengono pubblicati sul video Sul canale Scusatemi YouTube dei video da parte della Space Family E voi capite che abituati a vedere ogni giorno cose e quant'altro Cioè uno vede che passano settimane e non vengono pubblicati i video I fan della coppia si spaventano E dicono Che sta succede? Succede che se sui social Sara e Ibise non si fanno vedere assieme Nella vita diciamo offline Sara pubblica comunque delle stories che ci fanno un po' riflettere Nel senso che pubblica ad esempio questa storia credo sia ad una sala giochi Dove si gioca sapete no? L'ok sull'aria come che si dice Boh vabbè Comunque bellissimo ci giocavo sempre anch'io Tagga il fratello di Ibise Alessandro suo cognato sostanzialmente E quindi tutti quanti dicono Beh ma c'è qualche problema con Ibise Ma lei frequenta il fratello? Beh ma qualora fosse Cioè non è che perché litighi con il tuo futuro marito Allora non calcoli la famiglia in generale Cioè comunque questi bambini hanno anche uno zio Dei nonni eccetera eccetera Quindi voi capite che comunque Cioè non sta in piedi ecco no? Tutte le persone che hanno detto E vabbè ma lei frequenta il cognato Ma di qui di... Beh qual è il problema? Comunque a parte questo che cosa succede? Succede che i giorni passano E fino a qua era inizio di maggio Il 2 maggio Poi che cosa succede? Arriviamo al 5 maggio Nel momento in cui La Space Family torna più forte di prima E lo fa con un evento Credo fatto in un centro commerciale Se non mi sbaglio Esattamente così E proprio Sara pubblica nelle sue stories Questa locandina Dicono ci vediamo oggi 5 maggio Al centro commerciale Mondovio Re 15 Firma copia della Space Family Benissimo Viene pubblicata anche questa storia Vediamo Bise e Sara Per la prima volta Nuovamente insieme Però diciamo che Tutte le persone O almeno chi era anche lì presente All'evento Ha detto Boh non lo so Mi puzza questa cosa Forse loro hanno semplicemente Fatto l'evento insieme E basta Ma in realtà ci sono dei problemi Bla 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 Insomma Si è speculato molto Su questa relazione Abbastanza travagliata Tra Sara e Bise Ma la verità Non è mai uscita fuori Che cosa succede però Ad un certo punto Dopo che finalmente Si fanno vedere Nuovamente insieme In pubblico Diciamo che la Space Family Inizia a lanciare Sui social Qualche indizio Vi faccio un esempio Come hanno riportato Gli amici di Web C'è questo girasole Ed entrambi lo condividono Nelle loro stories Cosa vorrà dire? Non lo so Però insomma È stato pubblicato Potrebbe anche essere Un regalo della festa Della mamma Che Bise ha fatto a Sara In quanto mamma Non lo so Ma andiamo avanti Perché ad un certo punto Credo fosse un sabato sera Nel momento in cui O forse una domenica sera Nel momento in cui Sara di Sturco È a casa da sola Fa delle foto Al suo televisore Lo starete vedendo Sta guardando Shrek Ha pubblicato Una storia dove si vede Fiona E dall'altra parte Indovinate un po' Bise pubblica La stessa identica Inquadratura Ma con Shrek Questo che cosa ci vuol dire? Che forse i due Non sono Diciamo Fisicamente insieme Ma Si pensano Si scrivono Perché insomma Sara avrà fatto Entrambe le foto E ne avrà mandata una Bise Che avrà condiviso Poi Su Instagram Questo perché Perché la Space Family Sara e Bise Si vedono un po' Come Shrek e Fiona Ok? E quindi insomma Forse questo è un messaggio Che ci hanno voluto Mandare sui social Non lo so Ma chiaramente Di fronte a tutto questo Siamo sempre più curiosi Di capire che sta succede Passano Credo due giorni E viene pubblicato Questo selfie Li vediamo Ufficialmente insieme Sara e Bise Nuovamente su Instagram Con il piccolo Kevin Che cosa succede però? Ad un certo punto Nella stessa giornata Viene condiviso Questo post Lo starete vedendo C'è scritto Sara e Vale Una bellissima Casettina Messa lì Perché è un posto Molto conosciuto Dove ci vanno Le coppiette Per passare i weekend Eccetera eccetera C'è una lista di attesa Lunghissima Per andare in quel posto E non è neanche Poi così Economico Ma non è questo Il punto Il punto è Che si sono voluti Prendere forse Dei giorni Per stare nuovamente Insieme Un po' come era successo Qualche mese fa Quando sono volati A Londra Per fare Insomma Un viaggio Per ritrovarsi Come coppia Quindi Loro appunto Scrivono Ripartiamo Da qui E Sara Nei commenti Dice 7 7 24 Che è ovviamente La data del matrimonio Ti amo Per sempre Chiaramente Che cosa succede però? Succede che Nei commenti Moltissime persone Da una parte C'è chi Appunto È dalla parte Della space family E dice Che bello Siete tornati insieme Non vedevamo l'ora Blablabla Dall'altra parte C'è chi invece Di fronte a questa ennesima crisi Che è stata palesata Sui social Ha un po' Storto il naso Cioè ha detto Vabbè Basta Non vi crediamo più Vi accusiamo Solo e soltanto Di hype Vi vado a leggere Infatti Alcuni commenti Che sono stati lasciati Proprio sotto Questo post Sì però Avete rotto I co Puntini puntini Speriamo che Tra due Tre mesi Non siete in crisi Di nuovo Se no Non si va Da nessuna parte Meglio prendere Strade separate Ma ci sono troppi Interessi E avete anche ragione È tipo la quarta Questa volta che ripartite Contenti voi Sono più finti Dei Ferragnez Prima del matrimonio Potete farcela Ad avere un'altra crisi Dai Siete sicuri che Sposarsi sia la scelta migliore? Mi fa sorridere il fatto Che parlate di privacy E poi Un momento come il parto Lo piazzate Su youtube C'è qua quadra Che non cosa Contenti voi Contenta di avervi Defollowati entrambi Alla seconda Pseudo crisi Quella con la quale Poi avete avuto La brillante Idea di annunciare Il libro Ma la gente che commenta Senza sapere Che problemi ha Esattamente Boh Insomma voi capite Che il sentimento Generale che si respira Nei commenti È anche questo Cioè persone che dicono Basta smetto di seguirvi Perché continuate a fare Questi teatrini Solo e soltanto Per creare un po' Di chiacchiericcio Attorno a voi Alla vostra famiglia Ora io Prima di arrivare A questo genere Di commenti però Direi alle persone In generale È questo Che non conoscete La verità che c'è Dietro le cose Che succedono E non sempre Quello che viene fatto Sui social È fatto Per creare Delle dinamiche O quant'altro Insomma Io voglio sempre Dare il beneficio Del dubbio Le persone delle quali parlo E soprattutto A credere a ciò Che raccontano E dicono Se questi due ragazzi Sono ritrovati Se questi due ragazzi Hanno avuto un momento Di crisi E poi Sono ritornati Più forti di prima Sono ripartiti Come dicono esattamente Loro Perché non credergli Credo che tutte le coppie Chi più chi meno Hanno In generale Momenti up Momenti down Insomma Dei momenti Difficili Dei momenti semplici Momenti tristi Momenti felici Insomma Tutte le coppie Litigano Discutono Magari si allontanano Ci sta E questi ragazzi L'unica cosa Che hanno diversa Rispetto a Ad una coppia normale È che sono esposti Sui social Ed è molto più difficile Far capire alle persone Quando si è in pausa Quando si è in crisi O quando si è felici O meglio La curiosità È molta E quindi è forse Difficile In questo senso Avere un po' di Privacy Tra molte virgolette Poi per carità Loro sono dei personaggi pubblici Lo sanno benissimo Però non sempre È semplice Raccontare sui social La verità Che si sta vivendo Fuori dai social E quindi offline Quindi prima di Insomma Affrettarsi a Discorsi A giudizi Affrettati Appunto Non so Io guarderei Tutto l'insieme Fatto sta comunque Che Torna Torna il sereno Nella Space Family Niente ragazzi Ad un certo punto Come ha fatto Bise Anche Sara Decide di festeggiare Il suo addio Al nubilato E quindi Assieme alla sua amica Vola di Biza Una meta Ambitissima Per gli addi Al nubilato Al celibato E quant'altro Dove Tra mare E feste Passa del Tempo di qualità Con la sua Amica Torna in Italia E che cosa succede? Succede Che è il suo compleanno Credo fosse il 22 maggio Quindi due giorni Prima del mio Sì voi starete guardando Questo video Quando io gli anni Li ho già fatti Quindi grazie a tutte le persone Che mi avranno fatto gli auguri E grazie anche a chi non me li ha fatti Finirete nella mia lista nera Subito Ed è così che vediamo Anche questo scatto Li starete vedendo Sara e Bise A cena Insieme Lui scrive Auguri amore mio E lei risponde con Ti amo Quindi una cenetta Non dico a lume di candela Ma quasi In cui hanno festeggiato Il compleanno Di Sara Tutto è bene quel che finisce bene So che in questi giorni Si è ampiamente parlato Delle presunte cause Di questa crisi Che è stata vissuta Dalla Space Family C'è anche chi si è riempito La bocca Con parole Veramente molto forti Come ad esempio Tradimento Dare per scontato E dare per certo Proprio un tradimento All'interno della Space Family Non ve ne ho parlato Perché io credo Che di fronte a questo genere Di segnalazioni Ma più che altro A questo genere Di affermazioni Che vengono fatte Sui social Si debba andare Con i piedi Non di piombo Di più Quindi a me non frega nulla Di raccontarvi Di situazioni Che non conosco Che non so Che non sono state segnalate a me Quindi è proprio anche inutile Parlarne So comunque Che sui social Si è parlato Di presunte Corne e tradimenti E onestamente Io inviterei A chi Fa questo gossip Spicciolo Se vogliamo Anche E anche in un certo senso Invadente Di fare un passo indietro In queste situazioni Perché Non è un gioco Parlare della vita privata Delle persone Qua sui social Io lo sapete Da anni mi occupo di gossip Da anni racconto I fattacci degli altri Fino a un certo punto Però Nel senso che Addentrarsi in tematiche Così delicate Che non sono pubbliche E che magari Non lo saranno mai Perché non sono Neanche vere Ecco Io ci andrei Con i piedi di piombo Quindi io sono qui Per dirvi che In questi giorni Sempiamente parlato Di tradimenti Lui ha tradito lei Lei ha tradito lui Insomma Tutto il contrario Di tutto Già vi fa capire Che forse siamo Di fronte a cose Non vere Questo per dirvi Che cosa Non credete A tutto quello Che vi viene raccontato Sui social Soprattutto Da chi non è Il diretto Interessato Questo ci tenevo A dirlo Proprio perché L'importante Che Sara e Vale Si siano ritrovati Sia per il loro amore Che per l'amore Per i loro figli Quindi insomma Questa credo Che sia la cosa Più bella Adesso però Andiamo avanti Voltiamo pagina E ci occupiamo Di un'altra persona Molto molto amata Qua sui social Sto parlando Di Arienne Makeup Una delle youtuber Una delle creator Più amate In questo ultimo periodo Con la sua semplicità Con la sua simpatia Ha stregato Tutti quanti noi E devo ammettere Che mi ha fatto Molta simpatia Vederla anche Ai Web Awards Che ha vinto Insomma Tante cose Che ho visto Mi sta molto simpatica Arienne Makeup Ogni tanto vedo Qualche suo video Qua su YouTube Ma oggi Dobbiamo farci Un pochino più seri Perché per l'ennesima volta Un creator Che noi amiamo Viene non soltanto Criticato Ma letteralmente Insultato Dagli haters In questi giorni Infatti La nostra Arienne Makeup È volata A Londra E ad un certo punto Ci stava parlando Di non so che cosa Ha pubblicato Questa storia Io vi metto Due ferme immagine Che ho fatto Due screenshot Per farvi vedere Come si presentava In quelle stories Una ragazza Normalissima Ma C'è chi Di fronte A queste immagini Ha detto No Non vai bene Sei grassa Infatti Arienne Ricondivide Un messaggio Riceve questo grassa Scritto proprio In chat Come risposta Alle stories Che vi ho fatto Vedere prima E dice Chissà che divertimento C'è a creare Dei profili falsi E a continuare A fare body shaming Soprattutto Detto da una pizza Che fatemelo dire La pizza Regà Al bacio proprio Ma Questa inizialmente È la prima risposta Che Arienne Si sente di dare Ma Ad un certo punto La vediamo Come non mai La vediamo Piangere La vediamo In lacrime Anche abbastanza Vulnerabile Ha condiviso infatti Questo selfie Dove scrive Proprio questo Di solito Quando leggo Questi commenti Blocco e via Mi scalfiscono poco Sarà l'abitudine Ma ultimamente Mi sento molto fragile E poco sicura Di me stessa Sto ricevendo Solo una delusione Dopo l'altra Quando attraverso Un brutto periodo Preferisco stare lontana Dai social E non mostrarvi Nulla Perché vorrei Soltanto Strapparvi un sorriso Però vorrei Cercare di normalizzare Anche la tristezza Un'emozione Che secondo me Non bisognerebbe Mai reprimere So di essere Una ragazza solare Ma oggi Sono triste Ed è normale Ed è assolutamente Normale avere Dei momenti Non semplici Dei momenti In cui non vuoi Neanche apparire In video Non vuoi farti vedere Non vuoi parlare Perché non ti senti Nel mood Di farlo Quindi ci sta Avendo la possibilità E la fortuna Di fare questo lavoro Quindi scegli Quando lavorare E quando farti vedere Soprattutto Magari una persona Cerca di farsi vedere Nel momento in cui È felice E contenta Poi ci sono diverse Scuole di pensiero Io mi faccio vedere In qualsiasi modo Che io sia triste Che io sia felice Magari a volte Questo può trasparire Nei video Però Appunto Io la penso così Anche se è una giornata No Oggi sono qui E vi parlo Non è questo il caso Perché oggi Mentre sto registrando Questo video Che voi vedrete più avanti È il mio compleanno Ad esempio Sono anche abbastanza Felice Un po' meno Rispetto agli altri anni Forse perché sono a casa E non sono in viaggio Come mi capitava Negli ultimi due Tre anni Quindi insomma Vabbè A parte questo Che vi posso dire Posso dire Solamente una cosa D'Arienne Makeup Che questo genere Di insulti Che ha ricevuto Non la descrivono Minimamente Ma descrivono La bassezza Umana Proprio Delle persone Che glielo hanno scritto Quindi Che questa persona Le abbia dato della grassa Di fronte ad una storia Normalissima Boh Non capisco veramente Questo è quello che penso Di quello che dicono Queste persone E questo lo lascerò Di solito taglio I miei rutti Ma oggi Questo è quello che penso Ok Che volevo fare un discorso Ma si meritano un rutto Queste persone Quindi penso esattamente questo Arienne Io spero che vedendo anche Il mio rutto In live Cioè in diretta Qua nel video Tu ti sia fatta una risata Perché Credimi Queste persone Non meritano neanche Una lacrima Un secondo Del tuo tempo Poi della tua tristezza Poi che lei sia triste Per altre ragioni Mi dispiace Anzi ho visto anche Nei social Qualche tempo fa Che ha condiviso Una storia Dove diceva Che stava andando Dall'avvocato Che era successo A una cosa grave Che ci avrebbe fatto sapere Non so cosa sia successo Però spero Nulla di irreparabile Ecco Detto questo Un grandissimo abbraccio A Arienne Che veramente Porta così tanta positività E simpatia Qua sui social Che Che come fai ad insultarla Non lo so ragazzi Ma tanto insultano tutti Questi haters E vabbè Cama fa Lasciamo correre Lasciamoci alle spalle Questa gente inutile Che scrive commenti degradanti E nulla Il video direi Che può finire qui Spero che vi sia piaciuto E se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Ovviamente ragazzi Ditemi tutto Quello che pensate Su tutta questa vicenda Niente Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi ci abbiamo provato Ciao Ciao